Oggi vi presentiamo diverse tipologie di gas, ovvero green gas per le vostre pistole o fucili, perché al giorno d'oggi non esiste più il problema della temperatura bassa per queste tipologie di armi, grazie alla nuova tecnologia che inseriscono nel nostro gas, che appunto è più infiammabile, ha maggiore pressione e inoltre, appunto come detto prima, resiste alle basse temperature, quindi la vostra pistola non si incepperà o non farà cilecca, come detto. Abbiamo diverse marche, come potete vedere, dell'Eichland Clock e Elite Force, con due versioni, oppure la Diablo, un'app più semplice. Tutte queste versioni, tranne questa qua, ho mostratovi, ha, come possiamo vedere, la pressione alta, quindi è più performante, oppure, come possiamo vedere questo, è più normale, però è resistente alle basse temperature e quindi per tutte le vostre tipologie di pistole, quelle che possono essere sia per bambini che quelle per fare gare o attività sportive. Veramente un'ampia gamba di gas abbiamo, adesso queste sono solo quattro di quelle che vi possiamo elencare, ma vasta gamma, vaste differenze per tutte le vostre tipologie di pistole.